Sì, io sì! Ecco bene, in che condizioni! Nella postazione 14, con un purore! L'ombrello ha ti portato! Ah, io non sento buco! E mi ne manca una parca che ho troppo di un bello! Rocco, che vedi tu? Fermati alla primo parca, non avremo subito a trovare i ciotoppi da noi! Sì! Sì! Bene dai, ora ci vogliono andare in barna che ti vengono nella casa! Sì! Sì! Ah, ma ci vanno, non puoi fare! Non si faccio le mutande! Non si possono fare, gara! Che fa? E io me ne chiedi i minuti, bene dai! Io non potevo stare! Io non potevo stare! Io non potevo stare! E non potevo stare! E io andavo da una parca! Ma questo ciotoppi se il mio sorgho su cammina, non potevano più! Se no potevano che la macchina da vicino, la riuscigione! L'ombrello lo metto da vicino la macchina! Domani è un mio, io non so, che si sta fatta a fare la casa! E io non potevo stare! 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 E io dico che c'è la macchina ferma! Ma non potevo stare! Daci una patatina a cosa? Giulio, dai le patatine a me. Che lo faccio io non? No, non lo voglio. Che lo faccio? Telefono, chiamare la radia che la scende che io giustavo anche. Ma statti qui. Statti qui. O che tu vuoi ne ti manca? Guarda mia, si è passata. Negli mila indese, cara. Passa la radio miglia o c'è lì? E' un'altra cosa. Per la radio miglia che c'è una cosa, è solo una cosa. Guarda mia, c'è pure un servizio di antigente. E' un servizio di incontro. E' un servizio di incontro. Non c'è più che non era un servizio di incontro. Ma che doveva qualcosa di merdiabile? No, no, no.